Ok, il giudice dell'ottavo gruppamento da Israele, Avi Marshak. Flatcoated Retriever. Golder Retriever. Labrador Retriever. Cow de Agua. Duck Tollin. Lagotto Romagnolo. Cocker Americano. Field Spaniel. Genial. Checking it out. 정도 видите. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per favore un addetto delle pulizie nel ring d'onore, Lagotto, flat coated, Labrador, cocker americano. Ok, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Terzo posto per il cocker americano. Il secondo posto va al flat coated, vince Lagotto Romagnolo. Allora, abbiamo terminato il raggruppamento di oggi. Manca solo il best finale.